Oh, vai, c'è già la prima cosa è che sta succedendo Sì, ok Oh, ha piantato le bandiere Quindi è diventato di Bowser Cos'è, game over? Ah, no, ok Non so cosa sta succedendo Cos'è sta roba? Scegli il blocco per riceverlo già dal suo interno Ora mescolo i blocchi, quindi fate attenzione Non vorrei mica scegliere Bowser Ah, ok, ce l'ho Mi son perso Oh, dov'è? Non ho capito, da cosa devo prendere? Devo prendere Bowser? Ah, puoi scegliere due blocchi, attenzione Però se sceglierei uno con dentro Bowser il gioco finirà Oh, cacchio Ok Aiuto! Non ho guardato Oh, yes Quindi questo è Bowser Grandissimi Troppo forte Wow Abbiamo due stelle e un fungo, quindi Perché non Nooo Cioè, sono proprio Ah, hai capito Perché ci sono più spazio Allora non ci sono dieci power up Ogni spazio Cioè, ogni oggetto occupa uno spazio Quindi puoi avere massimo dieci oggetti Che brutto Cioè, sì, va bene È un po' più difficile Rende il gioco un po' più difficile In quanto In quanto Nell'uno Si potevano avere Più di Oh, ho già visto una cosa Più di Totto oggetti Cioè, noi potevate avere tanti Qui mi danno il ghiaccio Immaginavo C'è un torto osso Che figata Cos'è? Izzilon più ZR Io Te ne davano Ne potevate tenere di più Quindi sì L'hanno reso un pochino più difficile Ok Devo provare anche a giocare Col joystick normal dopo Adesso Adesso mi drogo Mi drogo di sto gioco Non vedrete video per due mesi No, scherzo Tre mesi Ah Yeah Sì, comunque le canzoni Sì, infatti Questa canzone C'è già stata Dai L'hai già messa Se mi combini Centro Centro Dai che forse riesco a morire Secret Ormai Ormai noi Li mast Merdo Ormai noi Li mastichiamo I segreti Dopo Super Mario Bros Oui Quanto sono a proposito? 18 minuti Not bad Sì Comunque come ho già detto Verranno Verranno più parti Forse farò il mondo 1 Devo riprendere la cosa Forse farò il mondo 1 Completerò il mondo 1 E Boh Poi basta Poi gioco per conto mio Voi non vedrete più niente Ve lo comprate Ehi No No Stai lì Sì comunque come ho già detto Un pochino difficile Per quanto riguarda i comandi Cioè è un po' scomodo Ma perché lo prendo sempre in pieno Quello? Ce l'hai con me? Ce l'hai? Dannato tartosso Ok La moneta stella era sopra Dall'altra parte però Di là Eh sì Come faccio a arrivarci? Come faccio? Hm Hm Faccio a arrivarci? Hm Hm Forse ho capito Vai No Devo trovare un modo Devo prenderla Sarà mia Sì bella Vabbè Salto Salto quel pezzo Tanto Tanto come ho già detto Non Non voglio farlo Non voglio Non punto al 100% Già adesso Anche perché Se no è brutto Non Se devo dire una cosa Non fate mai il gioco Al 100% La prima volta che giocate Cioè la prima volta che giocate Godetevelo Tipo Fatevi Hm Una partita così Proprio casaccio Poi quando l'avete completato Potete farlo anche una seconda volta Non guasta Tranquilli Perché se poi giocate già la serie alla prima Non ve lo godete Secondo me Hm Stimulati in circolo Mi puzzano un po' E lì sopra c'è un segreto Non c'è un segreto Qui c'è un segreto Sì c'è una stemma E un cannone Oh ok Si sale di qua Te vieni con me Non vieni più con me Oh mi sa che c'era il coso per Si c'erano C'era il setup per Due vite mi pare Vabbè abbiamo Ok si siamo arrivati Se lo posso fare C'è il mio fungo di fuoco Dai che l'avete messo Dai Grandissimi Grandissimi Mio Fantastico il rovo di Walter Junior Guardate le fiamme Tipo Io Poi il portone Il portone Vabbè dai Fantastico Qualcosa di epico No boom 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 Non mi ricordo Oh cacchio Ehi Ah non fa la trotta A questo Lo brucio così vivo Se li salta in testa Forse devo aspettare Che si calmi Perché sei andato a schiantare Forse devo saltare in testa Ah ok va bene Mario The number one No ok Siamo tutti d'accordo Che il mister bob Lo faccia meglio Vero Perché c'è una ghiana Lì per terra It's a drop Vuoi salvare Yep Cosa è successo Ah Ah beh Mi danno anche gli gesti così Collina degli Yoshi Oh vai vai Yoshi Voglio vedere cosa Cosa fa Yoshi Quel robo lì Della Del cross era fantastico All'inizio No talpe Talpe no Talpe no Ti prego talpe no Talpe no Non mi metti le talpe Perché mi metti le talpe Odio le talpe Ciao piante Ti volevo uccidere Ti volevo uccidere Ma ti sei salvata Yoshi qui Ebbè Ce l'ha il salto Sì Sì che ce l'ha il salto Eeeh No Anche che si Basta Sbaglio Cambiate il robo Della E cambiate il robo Della Come si chiama Oh oh Lì sopra c'è qualcosa Che mi interessa Come ci arrivo Yes Ti visto Non ho saltato Yoshi Ti stavo abbandonando No Non io Aspetta che quest'altro Avevo visto un tubo rosso It's a secret Vabbè Sì Yoshi Di tanto può camminare Sopra le piante Niam 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 Finish Ok Wow davvero bello Power up Please Grazie Schiacciati Con i nemici Sono tanti Di solito Perché vi mettono Il setup Per una vita Yeeeh Spanzata Quanto di Yoshi No Sapete cosa dovevano mettere Secondo me Tipo 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 Avete capito no? Smetti di No Yoshi Porca vacca Maledizione Dammi un altro Ti prego No Aspettate qua Mi puzza Ci proviamo? Pensavo almeno Che se ci fosse il muro Se ci fosse stato il muro Almeno avrei saltato di nuovo Sulla piattaforma E vabbè Yeeeh Yoshi Yoshi Give me my Yoshi Don't touch my Yoshi Questo bastardo Vieni fuori Stronzo Ti diverti eh Ad uccidere gli altri Oh cacchio Oh cacchio Ok Porca vacca No Yes Non so come ho fatto a prenderlo Non l'ho preso Corri Yoshi Fuggi dopo le talpe assassine Comunque sto dicendo Sapete cosa dovevano mettere Secondo me Il robo Della Del DS Che tipo nel DS Nel Super Mario Bros Per DS Avevano messo Sto robo Oh si Oh fiammelle Avevano messo il robo Per un oggetto in più Sali Sali Ma porca vacca Devo salire lì sopra Ok grande Fiorfuoco Si che mi serve Mangia Mi è andata bene Prendere le rincorse Io Io Ho mancato una moneta Yoshi Yoshi Quello che l'ho mancata Vabbè Vabbè Oh yes Ma 30 minuti Come 30 Dai Ecco una ricompensa Guarda che c'è un'altra stella Ma guarda un po' Come fai Se hai 30 minuti Ho controllato prima Rambenti E Emig ♥ Vabbè 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 Grazie a tutti